Battipagliese Volley, allora vediamo con il Presidente Salvatore Minutoli, quali sono le novità? Novità? Speriamo che ci siano delle buone, di iniziare un campionato aperto a tutti e torniamo nella normalità. Questo ci stiamo sperando da alcuni giorni, siamo anche in contatto con la federazione che probabilmente quest'anno il campionato inizierà come normale che sia. Sul piano societario c'è qualche storia di novità? Sul piano societario sono, come abbiamo detto già nelle ultime interviste, è entrato il signor La Famiglia Oricchio che sarà sponsor della società, il cui perderà anche il nome, quest'anno la squadra si chiamerà Oricar Battipagliese Volley, poi stiamo chiudendo con altri sponsor che chiuderemo a giorni, stiamo facendo passare un attimo questo periodo estivo, giustamente sono tutti impegnati a mare e poi chiuderemo per gli altri sponsor per affrontare il campionato. Per quanto riguarda il rafforzamento della squadra? Sì, abbiamo preso già la palleggiatrice Sofia Monti che viene da un'esperienza a Catania, una ragazza già con un bagaglio tecnico di notevole spessore, abbiamo preso un'altra ragazza, una centrale che già stava a Battipaglia negli anni scorsi e c'è un ritorno, e stiamo chiudendo con altre due ragazze, a giorni dovremmo chiudere il contratto, e credo che per venerdì chiudiamo, stiamo aspettando i procuratori per chiudere questo accordo e poi avremo chiuso la rosa. E che cosa è in programma in questi giorni? Beh, al di là del fatto, ti ripeto, che stiamo chiudendo la rosa, che noi dovremo iniziare la preparazione il primo settembre, sicuramente con gli allenatori adesso organizziamo tutto il programma, ma poi non è ultimo che come società domani, martedì, andiamo a Palinuro, che abbiamo organizzato la penultima tappa del Camerato Italiano di Bicevolle, che siamo interessati fino a domenica là con questa tappa gold a Palinuro, dove noi siamo ancora una volta come società e portiamo il nome di Battipaglia protagonisti.